Come decidere quali coin mettere in stake? Quali sono i passi da seguire per decidere le coin corrette? Dove metterle in stake e non cadere in alcuni tranelli che ci sono se guardiamo se scaviamo a fondo in questo mondo? Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi facciamo un video tutorial sullo stake delle cripto valute. Allora ragazzi cos'è lo stake delle cripto? Lo stake delle cripto è il modo in cui noi possiamo creare del rendimento passivo sulle nostre criptovalute detenute in hold quindi comprate e detenute in portafoglio. Lo stake delle criptovalute è realmente un rendimento passivo ragazzi perché è un rendimento che viene fuori dal capitale. Che cosa sono le rendite passive? Sono delle rendite che noi otteniamo quando mettiamo il nostro capitale in questo caso il capitale finanziario a rendita. Quindi facciamo lavorare il capitale al posto nostro e questo capitale genera un rendimento. In questo caso il rendimento dello stake essendo collegato esclusivamente al prestito delle nostre cripto è un vero rendimento passivo perché noi non dobbiamo fare assolutamente nulla. Il capitale lo mettiamo a disposizione della piattaforma dove faremo lo stake e otteniamo un rendimento indietro. Il problema non è diciamo il meccanismo che questo è abbastanza semplice ragazzi produce un vero rendimento passivo. Rendimenti passivi le rendite passive non sono tantissime quindi quelle invece da capitale sono effettivamente rendimento passivo. Il problema è capire ma il rendimento lo ottengo davvero? Oppure uno specchietto per le allodole quello che leggo quando leggiamo per esempio le PI molto molto altre. Beh ragazzi allora in questo video andiamo a mettere un po' la lente di ingrandimento e sveliamo queste cose. Ma prima di andare avanti, prima di dirvi quali sono i miei due punti fondamentali, poi facciamo anche un caso pratico, vi faccio vedere un caso sul CRO, la cripto di crypto.com. Ma prima di andare avanti iscrivetevi al canale ragazzi se ancora non l'avete fatto e lasciatemi super pollici perché mi date una mano con il video con l'algoritmo youtube ma poi ragazzi una cosa su questo video ve la devo chiedere cioè quali sono le cripto che voi avete messo in stake, quale vi piacciono più di tutti e perché no anche quali sono le piattaforme che preferite sullo staking perché magari possiamo anche approfondire questi argomenti. Allora andiamo subito al punto numero 1 ragazzi la flessibilità secondo me questo passo è veramente molto importante. Io quando scelgo la coin da mettere in stake decido sempre per quegli stake che sono flessibili e non vincolati. Allora se vedo dei vincoli io me ne scappo un po' è un retaggio dovuto alle vecchie banche con i pronti controtermini che ci obbligavano a stare bloccati. Ragazzi i vincoli nel mercato sono sempre negativi perché perdiamo il controllo del nostro investimento. Il investimento in questione raggiunge dei livelli stratosferici quindi sale, fa dei super pump e noi non possiamo uscire. Magari anche oltre quelli che sono i nostri target non possiamo uscire perché le abbiamo messe in stake abbiamo l'investimento vincolato. Peggio ancora crolla la criptovaluta in questione e noi magari non ci sentiamo più di detenere in odd quel tipo di investimento perché non crediamo più nel progetto oppure è cambiato qualcosa all'interno del progetto a quel punto cosa fate? Nulla perché siete vincolati. Primo passo scegliete quelle coin e quelle piattaforme di stake che vi danno la possibilità di essere flessibili. Posso accettare per un rendimento maggiore di avere un vincolo ragazzi anche di un mese massimo non di più già un mese secondo me è troppo nel mercato delle criptovalute ma come prendiamo oggi in alcune situazioni purtroppo non è possibile scendere al di sotto di queste di queste soglie di questi vincoli però posso già accettare questa forma di vincolo al di un mese ragazzi ma quelli legati per esempio a tre mesi sei mesi assolutamente no a meno che non ragioniamo sullo stake di stablecoin allora in quel caso la questione del vincolo potrebbe essere anche aumentata fermo restando ragazzi che perdete la disponibilità di quel capitale per un lasso di tempo magari molto lungo regola numero uno il minor vincolo possibile ragazzi se zero è meglio secondo punto allora secondo punto ragazzi è l'analisi del trend allora trend analisi sulla cripto che decido di mettere in stake ovviamente questo tipo di regola non vale per le stablecoin perché le stablecoin sono fisse a 1 basta ragazzi andare a guardare quelli che sono i trend della cripto in questione contro il dollaro o meglio ancora contro brit coin scegliere quelle che sono le criptovalute che hanno un trend positivo contro il dollaro ragazzi un trend di medio lungo periodo positivo vi faccio un esempio del perché è importantissima fare trend analysis su queste cripto e sulla decisione delle cripto da mettere in stake perché ragazzi nel momento in cui io vado a mettere in stake la criptovaluta in questione ottengo anche un epi guai magari del 50 per cento vi faccio proprio il caso limite e poi però quella cripto in questione va giù va giù contro il dollaro perché scende a un trend negativo contro il dollaro e perde il 70 per cento magari in un anno ragazzi il vostro rendimento finale sarà negativo ok non positivo considerate anche un'altra cosa ragazzi lo staking a un livello di rendimento variabile non è quasi mai fissato a priori ragazzi quando è variabile questo significa che dipende anche molto dalla richiesta del mercato per quella cripto in questione quindi è possibile che il rendimento in questione di una cripto che crolla vada anche a scendere poi dopo un po di mesi ragazzi perché magari la cripto in questione sta fallendo come progetto e tante altre cose quindi trend analysis secondo punto fondamentale per decidere quale cripto andare a mettere in stake facciamo un esempio proprio sul caso studio che ho scelto il cro il cro di cripto.com ha invertito da due mesi il trend contro il dollaro ed è entrato anche nel caso del mio portafoglio come moneta adatta per essere messa in stake però fino all'avvento della mainnet di cripto.com con la defy nuova che hanno tirato fuori ragazzi non era possibile rimettere in stake il cro con un vincolo accettabile perché sugli exchange avevamo un vincolo di 180 giorni è altissimo soprattutto secondo me per una cripto di questo tipo e poi soprattutto anche per il rendimento che garantivano che era intorno al 10 per cento quindi rendimento tutto sommato basso per questo tipo di investimento mentre all'interno dell'applicazione e la parte earn di cripto.com dava anche lì un vincolo di tre mesi per avere mi pare un 6 per cento quindi rendimenti comunque troppo bassi perciò il cro non aveva diciamo una buona un buon posto dove essere messo in stake se non se non che con la defy nuova ragazzi vi farò vedere anche cosa ho fatto io è possibile mettere il cro in stake sul wallet di cripto.com ragazzi il wallet di cripto.com lo scaricate semplicemente dalle applicazioni dei vostri smartphone mi pare che si chiami defy wallet una cosa del genere allora poi basta mettere il cro su quel wallet che è un wallet normale con di cui possedete anche le private key e lì lo mettete in staking sulla defy con più o meno il 15 16 per cento che un rendimento accettabile c'è però un vincolo ve lo dico già da subito di 28 giorni alla unstake cioè quando andiamo a uscire però in questo caso il cro diciamo rientra in queste coin che possiamo mettere in stecca anche perché ragazzi con il cro io ne ho sempre qualcuno perché ho la carta di cripto.com che uso per il mio cashback a proposito vi lascio il link in descrizione della carta di cripto.com dove potete avere il bonus di 25 dollari se richiedete la carta col cashback quindi se poi mettete in stecchi cro per ottenere il cashback vi danno 25 dollari di bonus che non è male ovviamente ragazzi il link in descrizione come sempre mi date anche una mano per il ref allora vi faccio vedere il grafico del cr e perché da febbraio a questa parte può essere messo in stake perché rientra in questa diciamo categoria allora questo intanto va bene noi iniziamo prima dalla cr o contro il dollaro che è più semplice allora ragazzi da questo momento in poi vedete da questa candela in poi il 21 febbraio il 17 febbraio il cielo è ritornato in trend positivo contro il dollaro dopo questi super escursus che fa diciamo è una moneta un po instabile se vedete da questo punto di vista però ci sono stati anche dei cambi radicali qui che hanno reso possibile questo pump quindi in realtà insomma anche la struttura il progetto del cr o che accompagna il cr o è mutato quindi va bene così allora ragazzi questa diciamo cripto se prosegue il suo trend contro dollaro ebbene tenerla magari in stake in questo momento per esempio è ritornata in una barra di congestione fondamentale che superi ovviamente questa parte di massimo per continuare ma questo tipo di trend analisi se io la vado a fare poi magari anche sulle decisioni future se tenere la coin in stake oppure chiudere proprio lo stake e riprendermi il mio investimento andiamo sul mio iphone e vi faccio vedere come funziona ok ragazzi allora questa è il defi wallet di crypto.com come vedete qui ci sono i total rates di tutte le cripto valute e come potete utilizzarle il cr o anche una mainnet su adesso quindi se io vado a cliccare per esempio earn more adesso forse si vedono diciamo quelle che sono i miei i miei depositi ragazzi allora qui per esempio voi potete andare a inserire il cr o che avete per esempio in in wallet io adesso quello che ho in wallet non è non fa parte di queste coni quindi non ho nulla da poter mettere in stake ma vi faccio vedere anche come si fa passando dei alcuni cr o per esempio sulla dalla dall'app al defi wallet dopodiché quello che è importante vedere il rendimento in questo caso un rendimento intorno al 16 per cento che non è assolutamente male per quanto riguarda questa questa crypto adesso facciamo una cosa ragazzi andiamo a spostare dei cr o su questo wallet vi faccio vedere come si mettono in stake e soprattutto andiamo anche a testare un po la velocità della nuova rete e di critto.com che ha dei costi molto bassi anche da questo punto di vista si sono sposati avvicinati a quello che era il progetto di di balance della bianca smart chain ok ragazzi ora siamo sulla mia app io ho circa 10.000 cr o che tengo in stake per avere i bonus della carta li mantengo comunque ragazzi perché prendo il cash back e tutti i vari bonus quindi questi non li considerano un investimento li considero come un acquisto quindi come un servizio comunque posso spostare possibile spostare i cr o con il withdraw e all'interno appunto della cripto.com defi wallet ragazzi ok un'altra cosa fondamentale che va bene ricordare ragazzi e qui la possibilità che avete di decidere questa volta le due reti le due c'è da utilizzare quindi arch 20 o cr o appunto l'accendi cr o perché all'interno dell'app ragazzi tutti quelli che sono i vostri cr o in questo caso sono già sguicciati sulla mainnet di cripto.com quindi usiamo ovviamente quella ok fatto ragazzi allora abbiamo spostato questi cr o ora dobbiamo attendere che la rete esposti appunto i cr o sul cripto defi wallet e poi li metteremo in stake ed eccoli qui ragazzi sono arrivati sono arrivati 101.999 il cr o quindi significa che il costo di nomandati 102 il costo è stato veramente irrisorio ragazzi quindi assolutamente ottimo da questo punto di vista basta appunto andare qui sulla parte del portafoglio andate a mettere la massima in questo caso insomma io metto il massimo possibile e faccio stake ragazzi c'è una cosa che devo aggiungere a questo problema del cr o il cr o per toglierlo dallo stake dalla defi wallet vi richiede 28 giorni di inutilizzo delle vostre cripto questo significa che nel momento in cui noi andiamo a a depositare ci vengono riconosciuti i rendimenti ma quando andiamo a togliere le cripto per riprenderne il nostro possesso per 28 giorni non saranno utilizzabili ragazzi quindi non possiamo toccare quelle cripto valute per 28 giorni perfetto ci siamo allora per oggi è tutto ragazzi vi ho detto quelle che sono le mie regole cosa ne pensate voi soprattutto voi avete delle regole quando decidete quali coin mettere in stake quali sono le piattaforme che vi piacciono di più argomento stra interessante come sempre io vi lascio noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti